Sì, purtroppo anche ieri Siamo usciti a fare risultato, peccato perché la Pettina è entrata bene Eravamo passati in vantaggio Sembrava che fossimo in partita Poi abbiamo subito il gol dell'1-1 del Pride A quel momento la squadra non ha saputo reagire Sono usciti fuori i limiti Soprattutto di personalità e di esperienza Che la mia squadra è molto giovane In esperità E la situazione è un po' difficile Speriamo che arrivi qualche risultato Che aiuti a fare morale Magari anche qualche elemento di esperienza Nell'apertura delle liste di dicembre Altrimenti il nostro campionato sarà molto difficile